ciao a tutti amici quando ho iniziato a occuparmi di fotovoltaico ero io da solo poi per la parte amministrativa si è aggiunta quella splendida donna di mia moglie dopodiché ho trovato un ingegnere che è diventato mio braccio destro adesso Greenwood Italia conta oltre 10 venditori diretti che promuovono i nostri servizi il nostro materiale presso gli elettricisti in tutta Italia però questo messaggio è per te che stai cercando un'azienda seria almeno nelle intenzioni che voglia puntare su di te dandoti degli strumenti non dicendoti questi sono i listini questo è il Deprian arrangiati e buona fortuna quindi caro amico se stai cercando un'opportunità come commerciale in un'azienda che opera in un mercato in costante forte crescita e che è fatta di persone che hanno rispetto per il tuo lavoro ti prego di contattarmi abbiamo ancora delle province libere dove cerchiamo dei bravi commerciali che ci aiutino a seguire i nostri clienti se ti piace l'idea di promuovere il fotovoltaico presso gli elettricisti o le aziende che si occupano appunto di realizzare impianti fotovoltaici o fotovoltaici chiavi in mano contattami subito una buona giornata a tutti da Marco Faio tu esperto nel fotovoltaico ciao ragazzi